Benvenuti a Pizzo Ferrato, la terrazza sull'Abruzzo. Mi trovo a Pizzo Ferrato, un borgo definito la terrazza d'Abruzzo da Gabriele D'Annunzio. È chiamata così per la sua posizione, una sorta di terrazza affacciata sul mare Adriatico, sulle altitudini della Maiella. Nel cuore del borgo troviamo la chiesa della Madonna del Girone, datata all'undicesimo secolo, che accoglie resti delle statue di San Nicola di Bari e di San Domenico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questa chiesa appartiene anche una leggenda, che riguarda un crocifisso. Si dice che i soldati tedeschi lo volessero trafugare e non riuscendoci, gli spararono contro una raffica di proiettili. Il crocifisso però si spostò, lasciando nel muro fuori di proiettili, ancora oggi visibili. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.